Tutti la conoscono come ottima giornalista di Sky Sport e la apprezzano per la sua indiscutibile bellezza, ma di Letta Leotta anche una ragazza molto sportiva e spesso ne di prova sui social dove regala ai propri ammiratori immagini e video delle sue sessioni di allenamento in palestra. Stavolta la conduttrice di Sky Sport ha voluto stupire i suoi follower. Sono ben uno, otto milioni, postando un video in cui effettua una serie di massacranti trazioni alla sbarra. Completino super attillato, di Letta mette in mostra tutto il suo sex appeal. Ma questo allenamento, degno di Rocky Balboa, non sembra risultare particolarmente pesante. Il viso della bellissima conduttrice è infatti sorridente. Per nulla affaticato, il mistero viene svelato alla fine del video. La giornalista di Sky ricorsa un aiutino. Il video mostra infatti come i piedi della Leotta poggino sulla schiena del suo personal trainer. Intento a compiere delle flessioni. Il post spiega con ironia la scorciatoia adottata dalla presentatrice. Come eseguire 100 cancelletto pull ups senza fare troppa fatica. Virgolette. Altro su MSN. Diletta Leotta super sexy in palestra. Gazzetta TV. Riproduci nuovamente video. I M P O S T A Z I O N E N O N Attivo. H D H Q S D L O.